Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi, venerdì 2 febbraio 2018. Vediamo quali sono i temi fondamentali di questa giornata. Su tutti quanti i giornali a partire da Repubblica si parla molto del caso polacco. Esiste una legge, hanno approvato una legge con una maggioranza mi sembra di 53 a 27 nel Parlamento polacco, per la quale non si può parlare di campi di concentramento polacchi, facendo riferimento ad Auschwitz Treblinka, cioè a una serie di campi di concentramento che sono stati quelli che hanno reso la Shoah drammatica, mortale, orribile, uno forse degli elementi più brutti della storia dell'umanità, inequivocabilmente. Inoltre questa legge ha detto e prevede che non si possa parlare di complicità dei polacchi con la Shoah. Oggi tutti quanti i giornali si interrogano su questo, tutti condannano la Polonia, si parla di negazionismo. Ecco, la parola negazionismo secondo me qua è utilizzata non male, malissimo. Gli amici ebrei dovrebbero stare attenti a utilizzare la parola negazionismo, un po' come le donne dovrebbero stare attente, come vedremo tra poco, a usare la polenza di molestie e violenze sessuali sui casi effettivamente esistenti di negazionismo. Questo non è negazionismo, questa è una cosa diversa e se volete un po' peggiore, e cioè quella di negare la possibilità a un cittadino polacco di potersi esprimere liberamente su qualche cosa che né le autorità polacche né i cittadini polacchi negano. Nessuno nega l'esistenza di Auschwitz, tantomeno questi che hanno fatto le norme della legge polacca. Quello che si nega, ed è secondo me anche sbagliato, è quello di identificare con polacco i campi di concentramento di Auschwitz, ad esempio. Ci sono dubbi sul fatto che questi campi di concentramento fossero gestiti dai nazisti? Direi proprio di no. La Polonia fu invasa e la Polonia cercò in tutti i modi di salvare anche gli ebrei. Mi sembra che oggi sulla Repubblica c'è il numero di ebrei salvati dai polacchi, che è il numero maggiore rispetto a tutti quanti i paesi europei, compreso l'Italia, dove le leggi razziali furono fatte nel 1939. Quindi, insomma, è un po' più complicata la vicenda di come la si mette, definendo negazionismo, la questione polacca. Una cosa è certa, una cosa è certa, che pensare che fare una legge con la quale si debba evitare di raccontare qualche cosa con un termine è una roba dell'altro mondo. Va bene? Di negazionismo direi che finiamo di parlare. L'altro grande tema di giornata è il braccialetto di Amazon, per cui tutti sono scandalizzati, sindacati che urlano. Addirittura Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio, ha fatto le dichiarazioni dicendo che bisogna pensare all'innovazione, alla qualità del lavoro e non al controllo delle persone che lavorano. E quindi direi che forse qualcuno di voi può essere convinto che ci siano nei tre centri di smistamento di magazzini di Amazon in Italia questi braccialetti che vibrano per farti capire il braccio, dove sta il pacco, e ti possano controllare. Va bene? Non esistono. Sostanzialmente questi braccialetti hanno avuto l'ok nel loro brevetto proprio una settimana fa ed è stato pubblicato da una lista americana, non sono stati adottati da Amazon. Allora che ci possa essere un atteggiamento preventivo, dice Carolina, il braccialetto lo metterei agli statali, che ci possa essere un atteggiamento preventivo in cui ci sia un grande dibattito sull'idea di controllare le persone al lavoro, dal tonte lo Statuto dei Lavoratori, la legge 300 del 1970, prevedeva alcuni vincoli nel controllo del lavoro in maniera legale. Perciò il tema magari c'è, ma l'idea che il Presidente del Consiglio in piena campagna elettorale prenda l'occasione per dire che questo non è il lavoro che vogliono, insomma questo mi fa capire che più che essere una posizione anti Amazon e anti braccialetto a difesa dei lavoratori è una bella posizione per affermare la propria sinistrosità. Altra campagna elettorale è quella che c'è nei numeri di oggi sul fisco e sul recupero fiscale e questa è una bella fake news, come va di moda a dire, solo che quando le fake news le scrivono i giornali, scusatemi, e le scrivono i comunicati stampa dell'Agenzia delle Entrati e del Ministro Paduan e ovviamente non si definiscono tali. E la fake news è che quest'anno c'è stato un balzo incredibile, il 2017, scusate, di recuperi fiscali. e sono arrivati a 20,7 miliardi di euro. Bene, è falso, è falso, è semplicemente falso, non è vero, non sono state recuperate 20,7 miliardi di euro di evasione fiscale, perché in questi 20,7 miliardi di euro ci sono 6,5 miliardi della rottamazione delle cartelle esattoriali, chiaro? Allora, brutti, cornuti, allora le fake news sono solo quelle che fanno il Movimento 5 Stelle, le Innovax, noi su Facebook, eccetera, e quando tu mi scrivi una stronzata come questa, cioè che 20 miliardi sono di recupero di evasione fiscale, quindi tu ti immagini i guardi di finanza che becca gente in nero? No, sono persone che avevano cartelle fiscali, che stavano iniziando a pagarle, o che non stavano iniziando a pagarle, che le hanno rottamate. Si chiama sanatoria, quindi togliamo a 20 miliardi, 6,5, a cui aggiungiamo 500 milioni di un'altra sanatoria che si chiama Volontary Disclosure, cioè i soldi dall'estero li porti in Italia e ci paghi le tasse, quindi su 20 miliardi, 7 miliardi sono di sanatorie, quindi il recupero di evasione fiscale è 13, va benissimo, basta che dite i numeri giusti. Titolo, 20 miliardi di recupero di evasione fiscale, balle, balle, fake news, chiaro? Mentre non è una fake news, caro ministro Padoan dell'economia, che ci sono dei fondi internazionali che stanno vendendo l'Italia, 10 miliardi di euro di vendite sul mercato italiano, oggi ne scrivo sul giornale, il fondo più attivo è questo hedge fund che si chiama Bridgewater e che cosa dice il nostro ministro dell'economia, l'uomo che sovraintende ai mercati, l'uomo che combatte contro le fake news, dice non vedo speculazioni, a me va bene tutto quanto, si può dire che siano sbagliate, che non ci siano i motivi per farlo, che l'Italia è solida, che anche dopo le elezioni non succederà nulla, ma non vedo speculazioni, caro Padoan, è come quando il ministro dell'economia disse che non vedeva più nessun problema per le banche italiane e poi arrivarono i casini delle altre banche, le venete, ma non c'erano casini, il sistema sembrava solido. Ci possiamo fidare di un ministro che quando ci sono 10 miliardi di euro di vendite allo scoperto sulla borsa italiana dica non vedo speculazioni? Le soluzioni sono due, o è cieco o in cattiva fede, ditemi voi quale delle due vi sembra più verosimile. Piazza Fari ha guadagnato il 7,5% all'inizio dell'anno, come nota bene oggi sono le 24 ore, ma questo non toglie che ci sia chi sta cercando di speculare contro Piazza Fari legittimamente. Il titolo migliore per quella cretinata che è la firma di 120 attrici italiane che dicono non abbiamo più paura, la lettera abbiamo smesso di avere paura delle molestie sessuali dopo il caso Weinstein, è il pezzo di Valeria Breghieri oggi sul giornale che liquida la questione, è il collettivo decine città, cioè quello degli anni 60, quello degli anni 70, il collettivo degli anni 70, le donne che non hanno più paura sarebbero la Comencini perché aveva molta paura degli abusi sessuali, l'Isabella Ferrari, lei sì sempre, insomma la Capotondi, c'è tutta una serie di attrici che erano state impaurite dalle molestie sessuali e oggi finalmente è finito questo clima. Difatti ne è nato un altro di clima, forse migliore, quello per cui la Manchester Art Gallery, che cosa ha fatto? ha tolto un quadro pre-Raffaellita in cui c'erano delle minfe, perché quelle erano sottomense, ha tolto il quadro pre-Raffaella Ita, questa deficiente, questa cretina, ma si può? Sono come quelli di Liberty One che hanno tolto le ombrelline della Formula 1, bravi, adesso non abbiamo più paura, togli i quadri pre-Raffaella Iti, trogli le ombrelline della Formula 1, fai il manifesto delle 120 attrici famosissime che dicono che hanno paura, ora abbiamo risolto il problema delle molestie sessuali, ipocriti da quattro soldi, per quanto riguarda le liste elettorali, qua ci sono 3-4 notizie di oggi di retroscena, la prima nella Lega si litiga e anche lì io pensavo che non ci fossero polemiche, ci sono, perché i veneti di Zaia sono arrabbiatissimi con Salvini che li ha tenuti fuori dalle liste, secondo pezzo di Verderami su Corriere della Sera, molto interessante anche questo, riguarda Letta, il grande Gianni Letta per il partito di Forza Italia è il mito totale, sarebbe arrabbiatissimo con Ghedini e con chi ha fatto le liste di Forza Italia, è difficile pensare il Gianni Letta arrabbiato, ma questo è quello che racconta Verderami, poi divertente la questione del fatto, che dice che Renzi e Berlusconi si sarebbero messi d'accordo per fare l'inciucio e questo l'abbiamo detto tutte le volte, ma come lo fanno? Nei singoli collegi, PD e Forza Italia non si danno fastidio perché se si dessero troppo fastidio farebbero vincere il terzo in comodo, intervista senza neanche una risposta decente a Casaleggio, Davide Casaleggio, questo è il modo con cui noi dovremmo fare le interviste a Casaleggio, sul fatto quotidiano, tant'è che i giornalisti del fatto molto correttamente dicono che Casaleggio non ha risposto a molte delle domande che loro ponevano. Una domanda la facciamo, l'ultima, e la facciamo al Movimento 5 Stelle, anche in questo caso ci si permetta di non accanirsi e di non considerare questo un accanimento, lo fa il giornale di oggi, cosa ha fatto il giornale Panorama? Hanno controllato quanto erano le spese fatte da Di Maio e rimborsate dalla Camera dei Deputati. Bene, in questa legislatura Di Maio ha speso 402 mila Euro che si è fatto rimborsare in scontrini e trasferte. 402 mila Euro vuol dire 7300 Euro al mese. Chi di voi può farsi rimborsare 7300 Euro al mese? Beh, io certo no, ma penso che il 90% delle persone che mi vedono in questa nostra zuppa non si può far rimborsare 7300 Euro al mese, sono tanti soldi, 7300 Euro al mese, compreso luglio, agosto, cioè sempre ti fai rimborsare. Allora cosa vogliamo dire? Ha rubato Di Maio? No, certamente questi sono rimborsi e sono convinto con il caffè, il ristorante, il viaggio, tutte cose legittime, il taxi, tutto legittimo. Ma allora, dove è finita l'idea che la politica si poteva fare con 1000 Euro al mese? È chiaro che se tu hai 7300 Euro di rimborsi, casa, macchina, taxi, pranzi, cene, o vestiti, se tu c'hai tutto dentro, è chiaro che puoi vivere con pochi soldi. Ecco, questa è l'idea che la politica non costa e che la politica può essere fatta in maniera volontaristica. Se non ci siamo noi contribuenti che diamo i soldi alla Camera, il signor Di Maio 7300 Euro al mese, 7300 Euro al mese, non si li fa rimborsare. Voi direte, tanti altri politici si fanno rimborsare altrettanto, sono sicuro al 100% che ci saranno politici che si fanno rimborsare anche più di 7300 Euro al mese. Immagino al Presidente della Camera Boldrini quante migliaia di Euro al mese costa lei e il suo apparato, i suoi assistenti, la stessa cosa grasso che non restituisce neanche i soldi al PD. Ma il punto è un altro. Caro Movimento 5 Stelle, tu che ci hai raccontato per anni che la politica è onestà, 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 non ti sei reso conto che la politica è anche costi, 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 che paghiamo noi contribuenti. I tuoi 7300 Euro, caro Luigi Di Maio, li paghiamo tutti noi, siamo sicuri che sono per il tuo mandato elettorale, però la morale è sempre quella. Quando arrivi in Parlamento, alla fine qualche cosa di diverso rispetto alle persone normali c'è, perché non mi dite che sia normale avere rimborsi spese per 7300 Euro al mese per 5 anni consecutivi. Ciao! Grazie a tutti!